bella a tutti da pork mods eccoci qua in questa nuova gara questa gara è stata creata da romanaccio kill e vi lascio il suo canale in descrizione e guardate con che macchina siamo con la nuova zion classic scusate se non vi ho portato le modifiche ma l'ho modificata apposta per fare una bella miniatura dove di qua veloce quindi non guardate l'estetica che non è bello romana veloce 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 povero suino rosa chi è non lo so ma regà povero me povero me fatemi andare avanti rigirati sui mamma mia che stile veloce veloce ok oh regà questa macchina è un po' strana salto sui occhio sui padre mia madre mia madre mia ci siamo andiamo siamo in quarta posizione frena ok si può saltare sì sì ok frena 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 ok ok eh sui a me fa manovra dove sei andato dove vanno gli altri non lo so regà ok di qua c'è qualche suino che ha fatto una via alternativa cosa cosa ho preso di baggato no di qua non si gira di qua sì andiamo 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 belli veloci belli veloci paletto ok ok siamo vivi aiuto 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 regà non potete capire come rimbalza regà avete visto come rimbalza questa macchina è allucinante paole e guardalo che sui no vieni qua come te trollo eh andiamo 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 facciamo un po' di attenzione ok proseguiamo che ti prendi marciapiedi sui ok quanto corre però questa macchina frena frena guardalo quanto corre aunt paolo vieni qua sui dai che te voglio trollà frena frena cosa non lo so frena 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 hello c'è sui ce la fa? chi è che mi ha spinto? Crash mannaggia a te eh? aspettate ma non credo che ce la facevo eh ma siamo tutti qua oddio eh sui no no steve steve nooo la spintarella regà qualcuno mi ha dato la spintarella che peccato eh che disgrazio dai dai che ce la facciamo ma manco steve ce l'ha fatta siiii no regà abbiamo persa carrerita ve lo dico eh se qualcuno mi da oh niente niente zitti 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 che c'ha un buon ritmo zitti regà non mollare chi è che mi ha dato una spinta? chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? grazie leo continuo sta fa? va sui che sta fa? pausa qua andiamo eeeh aiuto 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 ok ci siamo attendiamo saliamo su siamo in quarta posizione eeeh o leeeh il primo chiero manaccio secondo alt paolo e terzo crash eccolo qua crash intanto dobbiamo arare il suino crash ok ci siamo allontaniamo leggermente la visuale attendiamo di nuovo veloce aiuto 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 madre mia siamo vivi o leeeh checkpoint preso bisogna andare moderati? si siamo terzi uuuu ok facciamo molta attenzione qua eh è che dobbiamo recuperare gli altri eh dove scappati siamo dritti? credo eeeh ok andiamo piano 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 dobbiamo girare ok e poi c'è il check dove sono gli altri? stanno la concentrazione eh no 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 ok dai che siamo quasi arrivati ma dopo devo saltare? no 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 cioè devo fare un mini salto non un salto ad alta velocità ok ok tutti che chiescano se chiesco qua ve lo dico veloce 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 ok allora dobbiamo fare un po' di attenzione eh uh bella questa parte però un po' trollosa no 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 raga stavo scherzando eh adesso non sbagliamo tutta lì quanto corono ok no 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 non caschiare perfetto qua ci doveva essere il vetro però lo hanno distrutto gli altri ok frena 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 aiuto 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 c'ho un po' d'ansia no raga neanche tanta ansia sto scherzando si c'ho un po' d'ansia no no dai dai sui no raga perdo tempo perdo tempo perdo tempo perdo tempo sali 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 con una ruota sui una nessuno che mi dà una mano dai no 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 raga mi gioco la carrerita eh che dite respawniamo o insistiamo se insisto è meglio niente 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 raga che peccato non c'ho io crede eh non c'ho io crede andiamo veloce 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 raga non possiamo perdere tempo ve lo dico stavo scherzando aspettate raga ma guardate ti dovevo sbagliato la colpa è la mia perchè insisto ho perso un sacco di tempo ok veloce ci siamo scusate il motorino aiuto 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 oh raga è difficile qua eh dai sui dai sui si 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 frena 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 andiamo che parte è wow che spettacolo dove siete dove siete dai venite qua venite qua venite qua venite qua oh troppo 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 dove stanno raga ce la faccio? si stanno la cos'è qui? retromarcia? si si andiamo 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 belli veloci eh abbiamo perso troppo tempo mannaggia no 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 dai sali sui ok 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 zitti 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 ho recuperato eh questa parte è un po' lenta eh dobbiamo fare molta attenzione qua ok giro 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 facciamo pure attenzione qua eh si raga c'era il turbo in marcia indietro non l'avevo visto però c'erano i cartelli quando ci sono i cartelli bisogna andare in marcia indietro vediamo un po' raga 54 secondi vediamo se si può recuperare qua devo impennare ok impenna? si 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 orga ho recuperato chi è? non lo so chi è quella macchina gialla pauletto aiuto 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 veloce 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 fuori radar no eh ok cascata torsui no? non è vivo aiuto 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 momenti ideali ora 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 ok mamma mia bella questa parte olleh ci siamo dai dai che sta lì pauletto sto lì sto lì sto lì veloce 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 aiuto ok piano madre ci siamo olleh come sta ho pure romanaccio qua ma che bella notizia raga ok scusami paule però però vado leggermente di fretta e voglio pure battere il proprietario della chiaririta romanaccio eeeh no regalo no 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 che poi c'è il traguardo eh ma guardate che bella parte là paulè veloce veloce sui no scusami ti volevo dare una mano eh ok romanaccio vieni qua sui wow guardate che parte io mi sparo una bella miniatura intanto ok ok vediamo vediamo speriamo che mi basta memoria roxa redditor che adesso disattiviamo che c'ho paura ok vieni qua sui vieni qua dove scappi dove scappi mi serve una mano? veloce e a me che me la dà la mano paulè paulè dammi la mano grazie grazie sui andiamo sta combinando sui veloce veloce che romanaccio il proprietario eh del parco ritus posso rigirà? si si non mi trollate però no 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 sui 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 aiuto 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 no no che parte è qua aspettate raga io sono rimasto trollato in una parte del genere eh oh no sui piano 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 sui si si posso posso raga perchè non va avanti aiuto 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 piano piano Ok Ragazzi lasciare la prima era Lasciare la prima era Uiuto uiuto Che ansia Che ansia che ansia che ansia No ragazzi ho perso la prima era Ma io Dico Sui Non mi fate parlare Non mi fate parlare Stanno a fallare Romalaggio Non gli fa prendere la prima era Ok Oh Aiuto 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 Non soffettate No ragazzi C'ho io credo C'ho io credo Sta macchina vi giuro che Rimbalza tantissimo Ora pure io C'ho avuto un po' d'ansia Che dobbiamo fare Anche se qua Potrei Trollare però Faccio il bravo E' difficile Quella manovra Un maggior manaccio Che mette ste parti Paolo Ce l'hai fatta sui Ok Era facile Era facile No faccio strike Mi prenda la prima era Io giuro Sui Sui Ok Caschi Che sta succedendo Qua Occhio Paolo Che caschi Aspettate Dai Dai Ok Andiamo Ah gara stupenda Che peccato Mi sono giocato La prima era Alla fine Ok Allora Teoricamente Siamo arrivati Secondi Perché Romanaccio Il proprietario Quindi non può concludere E Ant Paolo Si è guadagnato Una bella prima era Sui No sui Prendi testa Prima era Vai tranquillo Quanto trolla Questa macchina Ok Prima di concludere No sui Fammi spara tu drift Va Per la consolazione Dobbiamo driftare Come si deve Mamma mia Che sui Noss Drift qua Aspettate eh Allora Sui Sto a far drift Non mi disturba Qui nel birillo Regà non mi disturbate Come mi disturbate Ho detto Che sta a far drift Crash Ormanaccio Regà non si può Manco fare un drift In santa pace Fate fare sto drift Ok Regà che sta a venire bene Regà che sta a venire bene Wow 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 Sui Grazie Grazie mille Vado a fregare la seconda Aspettate Lo è di qua Piano piano Olè Comunque sia Se vi è piaciuta questa gara Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate al mio secondo canale Big Pork E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Iscrivetevi al canale Grazie a tutti.